Vedi, in questi silenzi, in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradirello l'ultimo segreto, da loro ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da displogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità.